Siamo qui con Elio. Noi conosciamo a livello artistico un Elio molto istrionico. Ci puoi parlare dell'Elio Classico? Diciamo che anche quello classico è molto ma molto istrionico. Questa sera in particolare presenterà l'Elio Classico, un repertorio di musica appunto classica accompagnato da un pianista classico su un palcoscenico di un festival classico in un percorso classico che partirà dalla musica classica, quella di Mozart e Rossini per passare poi attraverso l'opera da Tre Soldi che è già un po' meno classica però resta comunque classica, per finire alla musica classica contemporanea che nessuno andrebbe mai a ascoltare neanche se diciamo se gli danno dei soldi e questo pubblico invece addirittura paga per ascoltare ma alla fine avverrà il miracolo per cui questo pubblico ascoltando la musica classica contemporanea sarà soddisfatto e me ne chiederà ancora. Un saluto alla città che ha dato i Natali al grandissimo Giacinto Facchetti Treviglio, ciao a tutti Grazie 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 In realtà A continuerebbe ma non lo so più dopo A bravo Figaro, bravo bravissimo A bravo Figaro, bravo bravissimo Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo Per verità A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna A te fortuna, 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 a